Scusate Grazie a tutti. 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 Sì, questo è l'equipo. Trevoli, trevoli. Anche, tecnicamente, per puntuazioni erano, che vanno con la zona... Tanto questo, come questo come questo, come questo, anche tutti in più o meno, aveva fatto trampa, l'unico che non ha fatto trampa. Quindi abbiamo raggiunto, no? Abbiamo raggiunto. Noi abbiamo raggiunto con la pronta. Noi abbiamo raggiunto! Alla resta colpa! Sommo il vetto che ci sono gli altri membini. Sommo il vetto. No riguarda il vetto! No i dati, se si pensi che non si può! Il che ne dice che non si può! Il che ha detto che non si può! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.